Con il suo Gesualdo da Venosa, tra genio, delitto e follia, Andrea Tarabbia ha vinto il premio Campiello 2019. Il suo madrigale senza suono rilancia la figura del principe vissuto tra 500 e il 600, ma anche il borgo Gesualdino e la Valle d'Anzanto. Per ricostruire la storia del principe madrigalista, Tarabbia ha raccolto elementi proprio a Gesualdo, con il supporto di un nome tutelare, come lui stesso l'ha definito nei ringraziamenti, ovvero il professor Giuseppe Mastrominico. Andrea Tarabbia, a dire la verità, è stato fin troppo affettuoso nei miei confronti, dandomi questo riconoscimento. Giuseppe, dichiara in un'intervista a Tarabbia, è probabilmente la persona al mondo che conosce meglio il principe. Ha condotto studi storici e filologici su di lui. Abita a 50 metri dal castello dove Gesualdo visse i suoi ultimi anni e morì. È stato la mia guida fondamentale insieme a musicologi e musicisti con cui mi sono confrontato. Quattro anni fa lui giunge a Gesualdo, ma era già autore riconosciuto sul piano nazionale. Aveva pubblicato Il demone a Beslan e poi Il giardino delle mosche, due romanzi dedicati al tema della confessione. Voleva misurarsi su un argomento storico e sceglie Carlo Gesualdo. Arrivando sul territorio ci incontriamo e nasce un'amicizia. Io in verità ho risposto alle domande che lui mi ha posto. Forse qualche risposta è stata convincente, qualche altra l'abbiamo messa in dubbio e abbiamo molto discusso. E poi la penna di Tarabbia ha creato questo capolavoro premiato al Campiello con grande soddisfazione da parte di tutti. Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da orecchiamo morale e lo usa per indagare il male nella e della storia attraverso la scrittura. Questa è la recensione a firma di Marco Rossari sul Sole 24 Ore. È un romanzo sicuramente storico, profondamente rispettoso delle fonti e profondamente rispettoso anche della geografia. In questo caso Irpina, ma non soltanto Irpina, in cui lui cala le vicende. Straordinaria la descrizione che fa del castello di Gesualdo, della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Poi ci sono i dintorni, i calitri, i taurasi, la mefite, chi visiterà, chi utilizzerà il romanzo di Tarabbia e noi ce l'auguriamo come testo base per un turismo letterario e visiterà la mefite al centro della Valle d'Anzanto, capirà fino in fondo cosa vuol dire quel colpo di tosse che sembra di privare di respiro il petto di Carlo Gesualdo.